In questo video vi farò vedere come fascicolare un file di OpenOffice Writer Quindi dobbiamo andare su File, andiamo su Stampa Dopodiché aumentando il numero di copie, quindi stampando due copie di questo file Ci chiede se vogliamo, cioè quindi abbiamo la spunta fascicola Quindi ci stamperà prima la prima copia, 1, 2, 3, 4, 5 pagine In questo caso sono 5 pagine E poi passerà a stampare la seconda copia Togliando la spunta a fascicola, lui stamperà 2 volte la prima pagina, 2 volte la seconda, 2 volte la terza E così via fino alla quinta E così è uguale se aumento il numero di copie senza fascicola Stamperà 3 volte la prima pagina, poi 3 volte la seconda, eccetera Per invece stampare in ordine inverso Dobbiamo spuntare, quindi facciamo fascicola, stampare in ordine inverso In questo caso avremo già le copie pronte Perché quando andate a stampare la prima pagina poi vi rimane in fondo E quando avete stampato tutto dovete fare il giochino di rimetterle in ordine Mentre stampando in ordine inverso Una volta stampate avrete subito in ordine le pagine Nel giusto ordine Non dovrete procedere a riordinarle a mano Quindi per questo video è tutto E alla prossima